... Incidente nella serata di giovedì 6 luglio, intorno al 19, sulla strada provinciale 53 San Giorgio Canavese, a scontrarsi una Nissan Qascai, una Volkswagen Polo e una Renault Clio. L'impatto è stato il quanto violento. Sul posto sono intervenuti 118 carabinieri, e il bilancio è di 4 feriti non gravi trasportati dopo le prime cure in ospedale. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Traffico rallentato sulla provinciale, il tratto è stato bloccato il tempo necessario per permettere l'operazione di soccorso e rimozione dei mezzi.